Finisce la favola Gelbison, ieri 16 dicembre 2015, la società Gelbison ha firmato la propria condanna. I dirigenti del club vallese hanno messo in lista di svincolo tutti i calciatori, lasciando la squadra in pratica senza rosa, con annesse di missioni del direttore sportivo Giuseppe Albano e di Francesco Scarpa. Una vera e propria bomba esplosa ieri dopo il summit convocato nel pomeriggio, nel quale il vicepresidente, data l'assenza del presidente Noce, ha comunicato allo staff tecnico le decisioni prese nella riunione della notte precedente. In buona sostanza ora la Gelbison non ha più alcun calciatore in squadra, tutti saranno liberi di accasarsi dove meglio credono, senza alcun obbligo. La squadra di Vallo della Lucania a questo punto rischia seriamente di scomparire. Dopo il miracolo della riammissione ottenuto oltre il tempo massimo, ci si attendeva una stagione trionfale, con l'obiettivo salvezza come base dalla quale partire. Tante aspettative, tanti progetti per la compagine cilentana, che però all'improvviso ha dovuto svegliarsi e fare i conti con la realtà. Una realtà dura, cruda, difficile da digerire e che non fa prevedere nulla di roseo per il futuro. Nell'ambiente vallese nessuno si attendeva una presa di posizione così forte da una parte della società, ma tant'è, la Gelbison ora intravede il baratro. Lo scontro interno alla società è duro e la spaccatura creatasi tra il presidente Noce e parte della dirigenza sembra irreparabile, tanto da lasciare liberi tutti i calciatori. È evidente che se non si corre ai ripari a stretto giro di posta, la salvezza sarà praticamente impossibile, ma in questo momento le priorità in casa Gelbison sono altre e non legate al campo. Si attendono per i prossimi giorni ulteriori novità, che vista la situazione attuale fanno presagire nient'altro che la fine del calcio a Vallo della Lucania.